Sillabe Gaming Q3, le cuffie che cambieranno il vostro modo di ascoltare la musica e di giocare sul vostro PC. Beh ragazzi, mi è stato inviato questo prodotto che trovo eccezionale. Sì, questo è un video collaborazione con questa azienda che mi ha inviato il prodotto per testarlo e recensirlo. Non sono qui a negare che questo prodotto mi è stato regalato, ma devo essere sincero con voi, tutti i prodotti che io recensisco e porto sul mio canale cerco sempre di dirvi tutta la verità e farvi capire cosa è meglio per voi e cosa è meglio per me. Consigliarvi un prodotto oppure bocciare un altro tipo di prodotto. Quindi il fatto che le aziende mi mandano i prodotti e io ringrazio questa azienda per questo fantastico prodotto non è una questione di promuovere un prodotto perché te l'hanno regalato, perché ho bocciato tantissimi prodotti sul mio video nonostante mi siano stati regalati. Ma questo prodotto invece devo dire che è il numero uno degli auricolari Bluetooth, ne ho provati tantissimi e voi li avete visti sul mio canale. Tanti, 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 forse troppi auricolari, ma questi veramente li batte tutti. Li batte tutti e vi spiegherò anche il perché. Allora, le cuffie si presentano con il classico archetto che si usa tantissimo, che lo mettete qui sul vostro collo per dare una sensazione stabile all'interno del vostro corpo. Diventa un tutt'uno con voi. Il materiale che ha fatto l'archetto è molto rigido, ma devo dire che lo sto provando da svariate settimane e non ti provoca comunque irritazioni, non strappa i peli. I materiali di questo archetto, di questa plastica, sono veramente ben fatti. Promosso l'ingresso per ricaricare l'auricolare, magari dalla pioggia, dal sudore, perché sono anche impermeabili questi auricolari. E l'ingresso è micro USB. Di fronte a voi troveremo il tasto power, il tasto per far partire la musica, e lo stesso tasto, se viene premuto, servirà per accoppiare il vostro auricolare Bluetooth al vostro telefonino. Abbiamo sul tasto più, tasto meno, anzi, il contrario, tasto meno, tasto più, che serve per regolare il volume e passare e cambiare traccia della vostra playlist. E dall'altra parte abbiamo una grandissima batteria, una grandissima autonomia. Un'altra cosa che mi ha fatto veramente impazzire di questo auricolare, si ricarica solamente in due ore, qualcosa nemmeno, e il prodotto, la batteria, riesce a riprodurre sei ore di musica. Sei ore sono veramente tantissimo, che vi porterà a poter usare queste cuffie, perché la bellezza di queste cuffie, rispetto alle altre, sono che oltre che sono indicate per la musica, per i film, ma queste cuffie sono fatte per giocare sul PC. Sono cuffie da gaming Bluetooth, cuffie da gaming di alta qualità, a un prezzo veramente contenuto. Io l'ho testato sul mio PC, e devo dire che la qualità è eccezionale, sia per quanto riguarda i film, sia per quanto riguarda la musica, magari su Spotify, su YouTube, ma poi l'ho testato anche sui videogiochi. Io non sono un tecnico del suono, però è una cosa personale, e devo dire che sento queste cuffie in maniera pulita. Non sono potentissime, lo devo dire, non sono potentissime, ma la qualità è veramente eccezionale. Paragonando queste cuffie a altre cuffie, magari anche più costose, ho capito che l'azienda ha fatto veramente centro. Vi faccio subito vedere come funzionano. Allora, si mettono su, e devo dire che stanno molto bene all'interno del vostro collo, così vi permette di non perdere le cuffie, se magari facciamo degli sport estremi. Poi abbiamo due fili rigidi. Forse l'unica cosa che devo riprendere all'azienda è il filo che forse è un po' troppo rigido, lo potevano fare un pelino più morbido. Andiamo a parlare poi della parte importantissima, di come si sentono e la comodità nel tenere su queste auricolari. Beh, allora, devo dire ragazzi che sono comodissime, le ho tenute per più di sei ore in spiaggia, perché le ho portate al mare e devo dire che quasi le dimenticavo. Non danno fastidio, non ti provocano dolori e ti isolano completamente dalla parte esterna e la cosa può essere vantaggiosa o non vantaggiosa perché se magari siete per strada, devo dire che dovete tenere un po' gli occhi aperti perché queste cuffie riescono a escludere totalmente tutto quello che vi circonda. Se siete nella vostra cameretta e state giocando a un gameplay, beh, allora la cosa diventa eccitante perché tutto il resto viene escluso e sentirete solamente, vi sentirete immersi completamente nel gioco. Ragazzi, sono le prime cuffie Bluetooth economiche, che dico economiche, super economiche, di grandissima qualità. La scatola che vi arriva è questa, è una scatola semplicissima, ma non ci interessa. All'interno troveremo le nostre cuffie con dei ricambi, se non vi trovate bene. Questo video finisce qui, ragazzi. Spero che queste cuffie siano di vostro gradimento. Io le straconsiglio a chi? Le straconsiglio queste cuffie veramente a tutti. Io le trovo le numero uno, le migliori, sia per telefonare, per correre, per ascoltare musica, per vedere film. Ma la novità pazzesca che fa diventare queste cuffie il number one delle cuffie Bluetooth super economiche, sono che sono super adatte per giocare a gaming. Quindi è tutte quelle persone che sono sul proprio PC a giocare o sugli smartphone. Quindi ve le straconsiglio. Ringrazio l'azienda ancora per avermi permesso di poter provare, testare queste cuffie meravigliose. Sotto vi metterò il link per andarle ad acquistare direttamente su Amazon. E se avete Amazon Prime, vi arriverà a casa senza spese aggiuntive. Quindi i costi delle spese sono già all'interno. Con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!